Riprendiamo la nostra trasmissione di medicina, la casa della salute, incontriamo la dottoressa Fiammetta Fabris, direttore generale di Unisalute, la società, la compagnia di assicurazione che si occupa appunto di assicurare per la salute e per l'assistenza medica ai cittadini del gruppo Unipol. Ecco dottoressa, il gruppo Unisalute cos'è? Dia una definizione precisa. La nostra è una compagnia di assicurazione presente da 20 anni sul mercato, è esclusivamente attiva all'interno dei programmi salute per i cittadini in generale, nasciamo per grandi gruppi in particolare e siamo detenuti pressoché integralmente dal gruppo Unipol di Bologna. Verso quali persone, verso quali enti, quali categorie di persone vi muovete, come vi muovete? L'esperienza di Unisalute nasce all'interno del mercato cosiddetto del corporate, quindi sostanzialmente per le grandi aziende e stiamo adesso da poco sviluppando invece una linea anche per gli individui con prodotti anche molto particolari, molto snelli e a basso costo, ma la nostra esperienza arriva dalle aziende. Ecco, cosa proponete alle grandi aziende, prendiamo una grande azienda del nostro paese, che proposta fate ai dipendenti, a tutti i dipendenti? Allora, in linea di massima sono coperture che nascono nell'ambito del mercato del lavoro, quindi a seguito di contrattazione, quindi sono strettamente legate alla fase di rinnovi contrattuali e quindi di contratti nazionali oppure di CIA e all'interno di questi modelli le garanzie che di norma vengono presentate sono garanzie anche di grande utilizzo, per cui specialistiche, visite, accertamenti e protezioni sull'area ricovero. Abbiamo cominciato anche ad inserire garanzie particolari a protezioni di prestazioni quali dal non autosufficienza o prestazioni di carattere domiciliare e soprattutto con un modello molto particolare che è quello di servizio, cioè portiamo, non rimborsiamo prestazioni, ma in linea di massima garantiamo alla persona direttamente la prestazione sanitaria. Ecco, questo per le grandi aziende, per gli enti privati più piccoli, per queste linee un po' diverse? Il nostro esperimento è soprattutto quello di una vendita online, quindi una vendita abbastanza alternativa e diversa, anche perché ogni salute è concentrata esclusivamente sull'area di Bologna, quindi non abbiamo molte reti di vendita e quindi in questo caso il nostro cliente può arrivare direttamente sull'internet e acquistare i cosiddetti mattoncini, cioè monogaranzie, ad esempio prodotti di diaria, piuttosto che visite specialistiche, piuttosto che un prodotto dontoiatrico, il tutto a bassissimo costo e senza assolutamente problemi determinati dal fatto di dover compilare questionari sanitari, di avere quindi limitazioni all'interno della fruizione delle prestazioni. Ecco, sono in pratica fondi sanitari per una categoria o casse sanitarie per certi enti? Giustissimo, per quanto riguarda questa dimensione si utilizza soprattutto per le coperture aziende, perché grazie al vantaggio fiscale che le stesse hanno applicando questi tipi di prestazioni determinate da riforme dal testo unico, praticamente l'articolo 51 del testo unico della fiscale, consente alle aziende di portare integralmente in detrazione tutto quanto viene speso per questi programmi sanitari e questi devono però transitare all'interno di contenitori quali casse sanitarie di assistenza o fondi di categoria in maniera tale da poter garantire questo vantaggio. Si tratta quindi di polizze che possono essere sia collettive per tutta la categoria, per tutto il grande ente, sia personalizzate sul singolo paziente, contemporaneamente queste due cose? Assolutamente sì, corretto, perché la parte relativa ai grandi gruppi viene ovviamente costruita insieme all'azienda ed insieme anche ai rappresentanti sindacali in linea di massima. La parte invece dei mattoncini, come dicevamo prima, viene confezionata direttamente dalla persona che acquista ciò di cui ha bisogno direttamente online. In pratica, facciamo un esempio, cosa garantisce ad un cittadino che ha una malattia che scopre di avere necessità di un intervento chirurgico? Allora, in questo caso noi possiamo garantire le garanzie di cosiddette di ricovero, quindi rimborso spese per ricovero, determinate quindi dalla necessità di effettuare prestazioni o all'interno delle case di cure private, ma il cittadino può anche arrivare ad utilizzare queste stesse prestazioni attivando il cosiddetto servizio di rete convenzionata. Unisalute è attiva oggi in maniera particolare con oltre 8.500 cliniche convenzionate in Italia e quindi il cittadino può recarsi direttamente presso questa casa di cura, non avere sborsi perché il tutto viene regolamentato direttamente tra compagnia e fornitore e questo quindi, di questi tempi, è comunque un servizio molto apprezzato. I vostri rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, quali sono? Noi abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale che garantisce tutti i cittadini, come vi ponete verso questo servizio? Allora, per noi il Servizio Sanitario Nazionale è e continua ad essere un elemento molto importante anche perché il principio di universalità che garantisce il Servizio Sanitario Nazionale è assolutamente imprescindibile. Noi come compagnia quindi attiviamo anche dei percorsi, uno di convenzionamento con il pubblico, quindi all'interno della nostra rete convenzionata sono presenti ospedali pubblici che sono praticamente, per i quali noi gestiamo insieme l'intramenia, per cui in questo caso, viste le eccellenze che loro stessi rappresentano, il cittadino può recarsi presso l'ospedale, effettuare le varie prestazioni, sempre con lo stesso modello. Sarà Unisalute a pagare ed in questo caso quindi la convenzione Unisalute con il Servizio Sanitario Nazionale si esplica attraverso questo modello con l'ospedale. Altrimenti nei confronti del pubblico noi stiamo cercando di trovare anche modalità di collaborazione un po' diversa, ad esempio vorremmo cominciare a costruire forme di collaborazione che possano magari prevedere l'aiuto della compagnia di assicurazione su aree così importanti come la non autosufficienza, quindi l'invecchiamento della popolazione è uno dei problemi più grossi. E allora in questo caso non possiamo prescindere ovviamente da un forte controllo e da un accordo col pubblico e vorremmo che questo fosse un percorso innovativo di collaborazione tra assicurazione e struttura pubblica. Quindi si può parlare di integrazione pubblico-privato in questo caso? Il cittadino può avere questo vantaggio? Assolutamente sì, anzi dal punto di vista proprio anche dell'attuale normativa sono agevolati anche fiscalmente tutti quanti i programmi assicurativi che hanno questo doppio elemento di integrazione, per cui ad esempio se i piani sanitari collettivi come si diceva per le aziende hanno dentro prestazioni di odontoiatria, fisioterapia, non autosufficienza, garanzie e quindi che oggi all'interno del Servizio Sanitario Nazionale difficilmente possono essere erogate grazie alla riforma 502 che sostanzialmente gestisce questo tipo di argomenti tutto quanto questa parte di premio può essere portato in detrazione come si diceva quindi è assolutamente corretto e abbiamo un doppio binario il binario pubblico e il binario della seconda gamba praticamente integrativa che consente di avere migliori prestazioni e maggiori adeguazioni. Quindi è possibile avere l'assicurazione anche per una psicoterapia come ha detto per il dentista in sostanza? Sì, è possibile avere prestazioni anche odontoiatriche e anzi le dirò che da questo punto di vista proprio in funzione di queste prestazioni i nostri programmi ad esempio sempre questi collettivi partono proprio da incentivare in maniera particolare nel momento in cui diamo le odontoiatriche tutti i percorsi di prevenzione come elementi di base e poi successivamente innestiamo anche programmi di cura ma da quando abbiamo cominciato ad introdurre queste prestazioni la garanzia dell'odontoiatria è certamente una delle più gradite. È possibile prevedere una cosiddetta seconda opinione quando la malattia è complessa eccetera con la vostra assicurazione? Sì, abbiamo sostanzialmente una vera e propria seconda opinion sostanzialmente ci sono collegati con noi 1500 professionisti a livello mondiale esperti quindi in determinate tipologie di prestazioni quindi c'è un panel di patologie da quelle che possono essere tumorali particolari ma anche soltanto altre malattie degenerative che possono necessariamente avere e far ottenere questa seconda opinion e quindi attraverso sempre la nostra centrale operativa e il nostro collegamento in questo caso siamo noi a procedere e a mettere in contatto il nostro cliente che vuole avere la seconda opinion con questi professionisti esterni. Ma questi professionisti esterni li avete scelti voi, li scegliete voi o li può scegliere il paziente? Allora, in linea di massima questi relativi alla seconda opinion sono un panel di medici che sono già stati selezionati quindi facciamo parte di un circuito internazionale per cui di solito questi professionisti sono il top di questi esperti in quelle particolari patologie e quindi il cliente si affida a noi per determinare la scelta il medico però curante del paziente è messo in relazione con l'esperto e con il professionista eventualmente straniero o italiano in maniera tale che il dialogo possa svolgersi non direttamente col cliente ma anche con il curante del nostro cliente. Ecco, Unisalute si convenziona, è convenzionata con molte cliniche private, pubblico, private, una convenzione ma come le seleziona pubblico, private che siano? Allora, sostanzialmente abbiamo proprio dei requisiti qualitativi che facciamo valere nel nostro convenzionamento per cui uno dei requisiti in linea di massima è anche la presenza dell'accreditamento per il semplice fatto che ci sono già determinati tipi di presupposti specie in alcune regioni dove sono abbastanza rigorose che sono già garanzia di qualità di quella struttura dopodiché guardiamo ovviamente la presenza e facciamo proprio una visita personale in ogni struttura per verificare le sale operatorie per verificare tutto quanto la parte relativa alla presenza o meno di terapie intensive tutto ciò che ci occorre per la parte chirurgica e stessa identica cosa per la parte ambulatoriale e per la parte dei dentisti sulla parte ambulatoriale controlliamo le macchine devono avere certi parametri nel rapporto anche di utilizzo di prestazioni rispetto quindi ai modelli all'efficacia di utilizzo abbiamo poi all'interno della nostra struttura 50 medici e un responsabile medico che sovraintende a tutta quanta la parte proprio della rete convenzionale a questo proposito l'appropriatezza di cui oggi parliamo un po' tutti l'appropriatezza nella diagnosi e poi nella cura nell'intervento ad esempio come lo controllate? ecco questo per noi è stato un elemento molto importante abbiamo il vantaggio che mettiamo sempre a disposizione dell'assicurato anche di poter governare meglio anche i costi delle prestazioni grazie al convenzionamento però uno dei tasselli importanti molto importanti per noi è proprio questa proprietezia per cui i nostri medici quelli che supportano le attività liquidative verificano anche che le prestazioni sanitarie in relazione al quesito diagnostico alla mano che sta facendo la prestazione e quindi alla tipologia poi di prestazione successiva che viene fatta siano coerenti e quindi in alcune situazioni le dico per esempio un po' di tempo fa abbiamo adottato per la correzione dell'assere cimeri della miopia i parametri che erano previsti anche a livello pubblico per cui un certo numero di diottrie è soltanto una differenza tra un occhio e l'altro in maniera tale da poter essere compliance anche con l'effettiva garanzia di cura perché molto spesso l'abuso anche di determinati tipi di prestazioni penso ad esempio ad alcune prestazioni di alta specializzazione risonanze magnetiche o sottoposizioni di raggi non è detto che siano opportune per cui alcune volte bisogna anche dosare in maniera adeguata la risposta sanitaria che si chiede ecco i costi della sanità oggi sono sempre più alti questo nella struttura pubblica e private che siano voi riuscite a contenere questi costi così alti a entrare nelle spese in sostanza come si dice? vedendo i nostri bilanci le posso dire di sì nel senso che la nostra compagnia performa da vent'anni in termini assolutamente positivi non è facile perché siamo sul mercato solo con questo ramo salute che appunto è un ramo in cui anche l'inflazione sanitaria è sempre più alta il fatto di avere in un qualche modo governato attraverso tariffari le prestazioni e i costi ci consente di poter avere già un calmiere alla fonte rispetto quindi alle tipologie di prestazioni inoltre per alcune strutture soprattutto rappresentiamo importanti fatturati quindi anche gli accordi di questo genere si riescono a governare in maniera adeguata ma è soprattutto attraverso un'attenta politica di liquidazione un'attenta valutazione delle situazioni sanitarie che si riesce ovviamente ad operare quindi riuscite a calmierare i prezzi come lei ha ben detto ecco le nostre spese sanitarie sono notevolissime per il nostro paese 110-120 miliardi di euro nel pubblico più di 30-33 nel privato ecco voi come vi inserite in questo? allora oggi consideri che sui 33 miliardi di spesa out of pocket soltanto il 18% è la spesa intermediata quindi noi siamo all'interno di questo comparto quindi sono 11 milioni oggi gli italiani assicurati e noi ne rappresentiamo circa 6 milioni all'interno di questo comparto in particolare quindi nel mondo collettivo c'è quindi tanto ancora fuori di non governato ma è di già speso la necessità quindi è quella di una adeguata programmazione e quindi è questo che speriamo del ruolo con il pubblico sarà necessario cominciare a capire bene dove questa spesa viene fatta in linea di massima i 33 miliardi sono spessi in farmaci sono spessi in odontoiatria e poi sono spessi anche per i problemi delle liste d'attesa all'interno delle aree di specialistica la possibilità di governare meglio in questa spesa e quindi poter ex ante costruire dei piani sanitari che non siano soltanto una risposta finale al programma ma diano tranquillità e sicurezza alle persone sempre all'interno di un quadro di integratività secondo noi potrebbe essere una risposta per far aumentare quella forbice del 18% e governare meglio anche i 33 miliardi Lei ha citato più volte la non autosufficienza come intervenite? Allora, la nostra società come le dicevo è soprattutto legata a gestire il sinistro e a portare servizi da qui quindi le strutture sanitarie convenzionate i rapporti quindi con i nostri clienti che gradiscono in maniera particolare Lei consideri che noi gestiamo oggi oltre 2 milioni e 600 mila sinistri e una buona fetta di questi il 60% sono fatti all'interno della rete convenzionata Anche per la non autosufficienza abbiamo cominciato da 4 anni a questa parte a capire che il modello di servizio è quello che il cliente vuole quindi abbiamo assunto dei case manager all'interno della nostra compagnia abbiamo convenzionato strutture di domiciliarità quindi oggi abbiamo 30 mila convenzioni con professionisti da badanti a os eccetera tutte le figure che possiamo portare a domicilio a casa del paziente e quindi cominciamo a gestire anche la non autosufficienza in una modalità di servizio a casa a domicilio e questo abbiamo visto che aiuta non soltanto la persona che è purtroppo in questo stato ma soprattutto il contesto familiare perché ci occupiamo di tutto dalla parte burocratica fino all'erogazione delle prestazioni anche